Prima di diventare involucrato in IEF nel 1993, il signor Xiao aveva esperienza in assuranza qualità nella manufattura degli equipamenti per i planti nucleari, la gestione di qualità nella industria masonica e nella standardizzazione per la gestione di qualità. Dopo di unire la comunità dell'accreditazione, ha decisamente assumuto una varietà di rilascizioni come la gestione del Comitato tecnico del PAC, la gestione del Comitato dell'Accreditazione Pacífica, la gestione del Comitato dell'IF MLA, il Vice-Chair dell'IF, la gestione dell'IF ILAC-ISO e la gestione dell'ISC-ILAC-IF Joint Steering Committee. In 2015, ha diventato Presidente dell'IF e, più recentemente, ha assumuto il Presidente dell'INET-QI, l'International Network on Quality Infrastructure, un'indicazione di un'attività con i nostri partenari internazionali. Presidente dell'IF MLA, la gestione del Comitato dell'IF MLA ha servito di rilascizioni e le capacità di risposta per i ultimi sei anni, anche durante tempi di crisi, come la pandemia Covid-19, e nel giorno di operazione dell'IF MLA, dove la sua risposta rapida a problemi e le capacità di soluzione problematiche ha avversato l'organizzazione in buona e buona estremota. La gestione del Comitato dell'IF MLA ha aumentato dal 98% a 117%, i segnali del MLA AB da 60% a 75% e il numero di segnali del MLA regionale dal 3% a 5%. La cooperazione con gli partner internazionali ha aumentato con l'IF MLA, con l'IF MLA, con l'IF MLA, con l'IF MLA e l'IF MLA, con 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 l'IF MLA e l'IF MLA. Le attività comunicazione e l'outreazione hanno spesso di grande internazionali, con l'IF MLA, con l'increzzazione sociale, l'introduzione di un nuovo sito e un processo digitalizzato, un'increzzazione in numero di membri di Stakeholder, da 18 a 24, e una forte reputazione per le azioni, soprattutto durante la pandemia. L'ultimo risultato è che l'IF ha lasciato bene posizionato per il futuro. È una posizione di finanziamenti con iniziative strategie strategie, come il progetto di organizzazione projecte e il progetto di database management project well underway. I hope that you will join with me and these members in thanking Xiao for his many contributions to l'IF MLA and wishing him success in all his future endeavors. I enjoyed working with you. Thank you, Xiao. Great job, Xiao. Dear Xiao, it was a pleasure to work with you. Good luck. Xiao, congratulations on your two terms as IAF Chair and thank you in particular for your inclusion of the CAB community in the IAF activities. Well done. On behalf of the Standards Council of Canada, I would like to congratulate and thank you. for your excellent challenge. Thank you very much and best of luck in your future. Thank you for your leadership in IAF. Thank you for your leadership in IAF. Great leaders always make a difference. Great leaders always make a difference. Thank you, Xiao, for your great leadership. Hi, Xiao. Greetings from IQ. All the best. Congratulations, Xiao, for the job well done. I'd like to thank you for your excellent challenge. Thank you very much and best of luck in your future endeavors. Xiao, it was great working with you. Mr. Chairman, Xiao, for your great contributions to global prosperity and our friendship over the decades, I'll just say thank you. Thanks for your contribution and we wish you all the best for the future. Thank you, Xiao. We enjoyed working with you. You and I go back a long way, Xiao. It's always been a pleasure and a privilege. You have been towering and inclusive. Thank you for your support to emerging leaders. I thank Mr. Xiao for his dedicated service to the accreditation community, the outgoing chair of IAF in the past six years. Thank you, Xiao. It was a real pleasure to work with you. Thank you, Xiao. Thank you very much for your contribution to IAF and the global accreditation community. Congratulations, Xiao, on your contribution to the work of IAF. We enjoyed working with you. Thank you for the hard work and the dedication. Thanks, Xiao, for everything you've done from all at AVCB. Wish you all the best for the future. We appreciate your leadership. Thank you, Xiao. It's been an honor and pleasure working with you. It's been an honor and pleasure working with you. Congratulations on the job well done from SAP. Nido appreciated your nice way to build bridges and build trust. On behalf of IsoCasco, thank you for contributing to the fruitful collaboration between Iso and IAF. I would like to congratulate you for your commitment and dedication to IAF activists. I would like to thank you for your leadership in IAF. It was a pleasure to work with you. Good luck!